La posizione di questa sera è di un autore siriano poco conosciuto da noi che si chiama Muhammad al-Maghut, morto nel 2006 e che ha passato molti anni della sua vita in carcere, incarcerato appunto dal regime dagli anni 50 in poi. La posizione di stasera si intitola Viaggiatore arabo nelle stazioni orbitali. A voi, esperti e tecnici, chiedo un biglietto di andata per il cielo. Il mio triste paese mi manda, a nome di vedove, vecchi e bambini, a chiedervi un biglietto gratis per il cielo. Non ho in mano contanti, solo pianti. Non c'è posto per me. Mettetemi nel bagagliaio o sul tettuccio. Sono abituato, vengo dalla campagna. Non farò male a una stella, non farò torto a una nuvola. Voglio solo arrivare il prima possibile in cielo per mettere una frusta in mano a Dio. possa mai incitarci alla rivoluzione.